pronto pronto sì buongiorno signor federico che piacere di sentirla ben trovato io mi chiamo miriam e la sto contattando solo a livello informativo da una società che si chiama global fxm società di trading online di investimenti online la blocco subito la blocco subito io domani mi devo presentare a san vittorio vado in carcere quindi non posso fare niente non ho capito domani vado a san vittorio in carcere devo presentarmi ma hanno dato tre anni quindi infatti noi noi le vogliamo darti solamente un'informazione ho capito ma io sono in carcere per i prossimi tre anni sono in galera per i prossimi tre anni non posso fare niente mi spiace però va bene non sto dicendo di fare lì qualcosa mi scusi solamente si informa ok va beh mi dica mi dica grazie allora noi abbiamo lanciato in questi giorni un nuovo progetto solamente le vogliamo darti informanti quando lì avrà più tempo libero signor federico eh sì ma in galera ne avrò tantissimo di tempo libero comunque mi dica allora quando lì avrà più tempo libero a casa sua può darti una occhiata per creare una idea generale può vedere il nostro sito suppongo che un computer ce l'ha giusto ce l'ho ma non ce l'ho però in cella in sezione non mi danno il computer non si può ma va bene a casa sua oppure in lavoro ce l'hai certo ce l'ho ma le sto dicendo che io domani mi devo presentare a san vittore però no domani non stava dicendo domani domani anche quando torno fra tre anni va bene mi dica allora qual è l'indirizzo molto bene fra tre anni perfetto allora investimenti lei prima ha fatto ha avuto una esperienza riguardo a investimenti in banca in posto no cioè in banca sì ma è stata è stata per una una rapina semplice diciamo come ne è andata ha guadagnato con la rapina sì però poi mi hanno preso quindi no non ho mai fatto trading ma siccome l'ho capito siccome le ho detto la chiamata sarà solo a livello informativo va bene nessun impegno ma siccome io faccio solamente la prima presentazione per capire anche lei un po di medio riguarda i nostri servizi che noi offriamo se noi diamo in questo momento in linea diretta uno dei nostri esperti che le spiega velocemente la chiamata sarà molto breve senza nessun impegno da parte sua cioè adesso c'è un'altra persona che mi parla sì infatti operiamo in questo modo solamente si darà il nostro sito non spiegare no no devo devo bloccare no io ci ho provato io ci ho provato arrivederci ha provato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti